E' stata una finale ben giocata da entrambe le squadre, onore alla Carinatese che ha fatto un bellissimo percorso. Noi abbiamo fatto la pallavolo che volevamo portare in campo e questo si ci ha dato il risultato di vice di questo titolo territoriale che ci dà un percorso di un certo tipo verso gli obiettivi prossimi, però ci tengo intanto a fare complimenti alla federazione che ci ha permesso di essere qui, di farci giocare con il pubblico e di aver strutturato un campionato che non era facile da fare. Quindi grazie a tutti veramente. Rispetto al gruppo dell'anno scorso, questa è la formazione che ha fatto l'Argento a Salso Maggiore Termin Under 17 con alcune aggiunte. Ci mancano ancora delle atlete che sono nella squadra del Club Italia e che ci raggiungeranno, speriamo, più avanti. L'obiettivo è quello sempre di competere per il massimo possibile. E' chiaro che l'emozione grande sarebbe quella di ripetere lo scudetto dello scorso anno, però sappiamo che è molto difficile, ci proveremo fino in fondo senza rimpianti.